Partiamo dalla riete. Se svolgete una professione indipendente, state particolarmente attenti alla stesura dei progetti e controllate che siano davvero realizzabili. Toro, proverete un certo fastidio se una persona a voi molto vicina diventerà più invadente, finendo con l'infiltrarsi nella vostra vita privata, ma il fatto è che la consultate per ogni cosa. Gemelli, se vorrete evitare problemi anche con le persone che vi sono più care, dovrete fare uno sforzo per trovare il buono che c'è negli altri, anziché vedere ovunque difetti e comportamenti maliziosi. E voi vi siete mai guardati dentro? Cangro, oggi non avrete molta voglia di passare il vostro tempo da soli, preferirete avere uno scambio diretto con il resto del mondo e quindi alcuni impegni familiari non vi peseranno. Leone, nell'aria c'è una tensione latente, oggi potrebbe esplodere con fragore. È bene che manteniate la calma e prendiate sagge contromisure. Un amico vi darà un consiglio che però non seguirete. Vergine, non lesinate mai sull'impegno necessario per raggiungere determinate mete professionali. Se volete ottenere un certo risultato dovrete rimboccarvi le maniche, momento adatto per risanare il bilancio. Bilancia, oggi affronterete la vostra giornata con una certa lentezza che si tratti di lavoro o di svago, non avrete proprio nessuna voglia di correre e cercherete di fare in modo di passare il più tempo possibile nel luogo preferito, ovvero casa vostra. Scorpione, oggi sarà la giornata ideale da dedicare al più totale relax. La cosa migliore sarà proprio non muovere un dito se non per le cose assolutamente necessarie. Se avevate impegni, cancellateli tranquillamente. Sagittario, oggi sarà una giornata divertente e imprevedibile, quindi non mettete limiti nei vostri programmi. Tutto potrebbe modificarsi all'improvviso, ma non in modo sgradevole, anzi potrebbe essere esattamente il contrario. Capricorno, trattate personalmente senza delegare le questioni più delicate. Non fate affari con persone poco chiare e sfuggenti. L'amore dovrebbe essere generoso, esuberante e se lo desiderate anche molto prolifico. Acquario, anche oggi avete davanti un'ottima giornata in cui il vostro umore sarà sereno e rilassato. Qualsiasi cosa abbiate in programma andrà molto meglio delle vostre pessimistiche previsioni. Pesci, attenti, avete un po' la testa altrove, rischiate anche di perdere oggetti di valore. Le energie invece saranno eccellenti. È il giorno giusto per dedicarvi allo sport preferito, se potete. Giorno felice soprattutto per quanto riguarda l'amore. Se siete in coppia, vivrete una giornata decisamente eccezionale. Grazie. Grazie. Grazie.